siamo partiti a Nico González Luca le sue parole entusiastiche ha detto quando la Juve chiama devo dire sì Giovanni mi dici la tua su Nico no allora ti dico tre pillole la prima cosa che secondo me non è stata sufficientemente enfatizzata una cosa la Juventus ha schierato la squadra titolare più giovane di sempre in Champions League 25 anni 149 giorni quindi questa cosa qui deve essere messa prima di tutte le altre la seconda Nico González a me Nico González piace e parecchio stiamo parlando dell'unico giocatore che ha segnato e servito un assist nella sua prima partita di Champions League con la Juve dopo Alessandro Del Piero poi mi spiace che ci sia stato Ildiz che ha fatto un gol uguale ma Nico González gol e assist esattamente alla sua prima partita e al suo esordio assoluto quindi voglio dire se vogliamo parlare di numeri e di cose e di fatti e sul quanto è stato pagato Nico González secondo me bisogna mettersi d'accordo una volta per tutte i valori che si spendono dai cartellini dei giocatori non possono mai essere dei valori attuali sono dei valori di prospettiva e di scommessa su un determinato giocatore che viene ammortizzato nei prossimi quattro anni e che eventualmente ti permette di rivenderlo meglio a volte li indovini e a volte li sbagli ma il valore del giocatore non è mai il valore che viene pagato per il cartellino perché il giocatore di 21, 22, 23 anni che si è già affermato ha un valore superiore a quello di 27, 28, 30 anni che andrà a fine ammortamento senza poter essere rivalutato su una plusvalenza Nico González ha 26 anni e nel momento di massimo scusami di fine ciclo all'interno del quale puoi ancora fare un investimento su di lui tra uno o due anni sarebbe troppo tardi quindi secondo me per quello che ho visto finora e poi bene anche Motta che finalmente è tornato a un'idea Juventus grazie anche alla Rosa che gli è stata messa la disposizione di inserire i giocatori un po' alla volta bene Motta che lo sta inserendo un po' alla volta ma lui mi sembra che stia rispondendo Luca ci dici anche la tua sul primo sul Nico che stai vedendo e la sua presentazione non so se hai visto sentito qualcosa ma no non ho non ho visto non nel senso a differenza di tutte le ultime presentazioni non l'ho seguita in live perché ero impegnato su altre vicende ma ho letto ho letto sinceramente non lascio a quello che avrete già fatto eventualmente agli ospiti che ovviamente sono qua per portare molto il lato Juventus no e quindi il percepito Juventus io mi riservo a considerazione di quello che ho visto quindi aggrappandomi di più a quello che ha detto Giovanni io finora di questi di questi primi minuti di Nico vedo e osservo tre cose la prima non ho e mi succede raramente non ho al momento un giocatore del passato di riferimento da spendere come termine di paragone nel senso che queste queste alette barra seconde punte e qui arrivo al mio tema per me Nico a differenza di tanti altri esterni che sono stati associati alla Juventus ha una dote da seconda punta che chi lo conosce dagli inizi chi l'ha visto in Bundesliga eccetera gli riconosce anzi lui arriva più con quel tipo di 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 idea acquisto più penso acquisto oneroso più più importante della storia della Fiorentina tra l'altro solo che poi il sistema di gioco molto targhettizzato molto stabile di italiano che l'ha allenato poi negli ultimi due anni gli richiedeva di fare l'ala pura che è poi quello anche che è il sistema se vogliamo dell'Argentina io credo che questa sia una risorsa importante non ho un termine di paragone al momento da spendere per dire è un po' un della nostra storia non facilissimo bisogna andare al tempo delle seconde punte quindi scendere nel tempo e giocare su quello che era il nostro calcio più di vent'anni fa aggiungo e chiudo dicendo al momento visto Lampi credo che possa essere anzi che sia un ottimo punto di partenza nella meccanica del gioco della Juve perché comunque Contiago la meccanica sarà importante sempre di più col coglie delle settimane credo che sia ancora in parte da scoprire nel senso che se riesce a essere molto presente nelle meccaniche Nico che è un giocatore già molto europeizzato quindi non è nel senso è un giocatore che ha un'educazione calcistica europea importante può diventare una grande arma lo considero anche per la sua duttilità non solo questa storia del falso 9 che magari affronteremo dopo lo ritengo un titolare nel senso che a destra a sinistra o dove volete voi è difficile pensare che se sta bene ed è ben inserito Nico Gonzale stia fuori dall'undici di Tiago quindi un giocatore che ci serve faccia molto molto bene allora ragazzi io direi abbiamo ripeto Giovanni molto preparato su tutti i temi io però prima non me lo voglio perdere questa cosa abbiamo visto la Champions io ragazzi non vi chiedo l'impressione della Juve se vorrete già come con Paola ne ho parlato già quella sera ma ovviamente i pareri qua sono liberi ma direi che tutti siamo d'accordo sul fatto che sia stato un bel inizio molto molto positivo il PSV comunque aveva le sue qualità ma non le ha dimostrate alla grande da noi Giovanni se vuoi farci anche tu un tuo pensiero consideriamo te l'ospite più particolare perché noi altri ci ritroviamo spesso quasi ci vuoi dire un tuo parere sull'esordio ma io ti voglio scatenare subito a parte poi su tutta la Champions sulle altre sulla formula subito restiamo in tema Juve ci dici la tua impressione sulla prima e quindi che PSV era cosa pensi della Juve ma poi ti voglio su Kenan Hildiz abbiamo parlato di Nico Gonzales e tu mi hai detto io devo dire una cosa su il Diz perché sono avvelenato mi hai detto è così su il Diz su il Diz arriviamo perché è una cosa che mi hanno fatto andare è vero sì sì mi hanno fatto andare il sangue alla testa lo sai che non devi non devi non c'è bisogno di come si dice di provocarmi perché mi autoprovo mi autoprovoco da solo quindi no sulla Juventus stava parlando quello che diceva Luca volevo aggiungere questo allora anche perché tra l'altro un mio tweet credo sia stato anche un po' frainteso perché ho fatto un tweet provocatorio come mi piacciono intanto fare autoprovocatorio no no questa volta era provocatorio nei confronti agli juventini no a me di questa Juventus piace il fatto che partono si mettono lì si sistemano e poi quando cominciano a giocare vengono fuori la Juventus col PSV lasciate perdere i valori tecnici degli avversari è stata la Juventus col Verona che ha lasciato la palla a loro si è messa lì si è messa lì dietro e poi quando ha cominciato ad andare dentro andavano dentro da tutte le parti andavano dentro da tutte le parti e la cosa che mi è piaciuta è stato che a un certo punto le palle gol fioccavano letteralmente e questo è anche il ragionamento su Nico Gonzalez allora Nico Hildiz McKennie Cook Miners sono tutti giocatori e questo è il bello di questo modo di vedere giocare una squadra a prescindere che sia la Juventus vanno dentro se devono fare la fascia fanno la fascia se devono tagliare tagliano cioè sono giocatori tecnicamente dotati capaci di fare questo quello un po' diciamo tecnicamente più indietro è McKennie che però sicuramente ha i tempi di inserimento non è un giocatore eccesso ma ha i tempi di inserimento e quindi questo 1-4-1 è quello che va a riempire gli spazi che va ad allargare che va a giocare sulla profondità sull'ampiezza è un qualcosa che è bello da vedere e secondo me non è tanto chiedersi ah ma questo sarà un'ala ah ma questo cioè non siamo alla staffetta di Mazzola e Rivera ragazzi siamo nel 2024 e si gioca in base anche a dove c'è il pallone l'occupazione degli spazi e le situazioni questo è il discorso dentro questo Hildiz no allora io che nel 2024 ancora siamo qui a parlare di testa bassa testa alta onestamente mi fa andare il sangue al cervello allora esiste una dominanza visiva che come abbiamo un occhio dominante a destra o un occhio dominante a sinistra abbiamo una dominanza alta e una dominanza bassa ci sono giocatori che giocano a testa alta ci sono giocatori che giocano a testa bassa Lionel Messi il giocatore più forte di tutti i tempi è un giocatore che gioca con la faccia incollata al pallone perché siccome ha dominanza alta percepisce quello che avviene lontano da lui e guarda il pallone e lo fissa altri giocatori fanno il contrario ora che questa cosa qui che è scientifica è dimostrata è raccontata è potete andare a cercarvi anche un bellissimo video di Adriano Bacconi su youtube si chiama dominanza alta bassa visione alta bassa dove spiega meglio di me questa roba qua è una roba scientifica ora che si racconti questa roba qua come quando avevo otto anni e si andava a giocare e l'ultimo arrivato veniva a fare l'allenatore e ti diceva eh ma non si gioca con la testa bassa alza la testa non esiste questa cosa qua e chiunque ha giocato a pallone sa benissimo io te lo dico io sono scarso a giocare a pallone ma ho perfettamente la percezione che quando io gioco a pallone sono uno che guarda il pallone ma so spiegarti esattamente quando sento i miei compagni che si sganciano che si muovono che mi fanno sovrapposizione sono scarso però questa cosa qui è una cosa innata che tutti abbiamo ora stare qui ancora a raccontarci dopo anni e anni nel 2024 che il giocatore non può non deve alzare la testa e non me ne frega nulla se lo ha detto un grande calciatore che ha fatto centinaia era Boban diciamolo o se lo ha spalleggiato un allenatore che ha fatto tantissime presenze non me ne frega nulla di questa cosa qua perché è ora di dire che anche i giocatori hanno fatto le presenze vanno in televisione perché hanno fatto le presenze ma se non si aggiornano e se non studiano quello lì è un altro lavoro non vuol dire essere bravi a palleggiare raccontare il calcio e studiare le dinamiche anche neurologiche e cognitive che portano quindi anche Chiesa Giovanni ti ho fatto l'obiezione anche prima tu sai che tra noi i giuventini di Federico Chiesa mi ha detto per una vita va giù giù dritto dritto se la porta quasi sul fondo ma è una stupidaggine ma è una stupidaggine cioè Chiesa fa quella roba lì ma non vuol dire che siccome lui tiene la testa bassa non sa quello che gli succede intorno Chiesa tiene la testa bassa perché ha una dominanza dominanza alta e quindi quello che accade lontano da lui lo vede punto se Montolivo Andrea Pirlo Andrea Pirlo era uno che giocava a testa alta perché avendo dominanza bassa non doveva controllare il pallone ok perché lo faceva già di suo senza guardare il pallone e allora guardava lontano e guardava lontano per vedere quello che accadeva lontano di lui Montolivo aveva la stessa caratteristica con altre caratteristiche e tecniche di Andrea Pirlo ripeto Leo Messi guardate Leo Messi giocare Leo Messi è un giocatore che guarda sempre il pallone quando quando gioca non molla ma eppure Leo Messi sa esattamente cosa gli succede dietro sente il movimento del difensore non ha bisogno del tocco non ha bisogno ragazzi però questa roba qua ripeto non è un'opinione non è un'opinione non è un'opinione ma voglio il contraddittorio voglio il Luca o Giacomo vai Giacomo voglio il qualcuno che dica io non ho motivo di contestare quello che dice Giovanni ci mancherebbe ma dipende anche dalla testa e dai piedi di chi fa questi movimenti perché poi Dusan Blauvi c'era testa bassa non ha visto Francisco Consenzao passargli a un metro e mezzo e non l'ha messo in porta purtroppo è andata così poi sicuramente se il caso se il caso prendiamo il caso di Messi prendiamo un caso limite e quindi non un caso che ci parla di una moltitudine di situazioni paragonabili a quella Messi è Messi il resto sono giocatori giocatori di calcio sicuramente Ildiz io un pochino insomma Boban un po' di stima ce l'ho se dice quello avrà i suoi motivi certamente Ildiz grandi qualità che probabilmente gli permettono anche di fare quello che sta facendo e forse farà ancora molto di più anche stando a testa bassa avendo diciamo quell'impostazione che ha perché ha qualità straordinarie magari vede sente il cambiasso che gli è passato a sinistra portandogli via l'uomo al momento del gol perché il 15% di quel gol è anche il cambiasso che gli porta via l'uomo penso proprio come te io ho cominciato a credere in quel gol Giacomo 14,5% ecco mi ha corretto quando vedo cambiasso a partire da là comincio ero la sola lo stato comincio a credere possa finire così c'è la creatività di giocatori che possono anche avere un'impostazione un'impostazione proprio come dice Giovanni e magari non avere in quell'impostazione un elemento penalizzante ma anzi un qualcosa che ne esalta ne esalta le qualità chiaro tutti noi almeno io mi ci metto con Giovanni abbiamo giocato non a livelli né di Boban né di Ildiz e quindi i poveri allenatori che hanno avuto a che fare con noi ci dicevano alza questa testa però probabilmente almeno nel mio caso se l'avessi alzato tenuta bassa sarebbe stato lo stesso Ildiz secondo me può fare grandi cose restando come sta mi è sembrata più una critica diciamo su quello che era il rendimento di Ildiz che non sul modo di giocare secondo me lui può fare grandi cose può continuare a farle anche in questo modo sono d'accordo però il tema è questo posto che faccio una premessa mi spiace che l'abbia detto Boban perché io considero Boban il migliore di tutta il gruppone lì di calciatori eccetera e parlo in generale poi sono d'accordo con te che anche i migliori possono dire fesserie esatto però appunto però dentro dentro un ragionamento ci sta ci sta questo vedo che in chat scrivono Platini giocare a testa alta ma certo ma infatti il giocare a testa alta o testa bassa non è un problema tecnico non può essere non può essere considerato un problema non può essere e tu non puoi mai sapere se uno ha visto non ha visto ha preso una decisione eccetera questa cosa qui è una cosa che dobbiamo lasciare alle storie del passato e che è scientificamente totalmente infondato che si dica a uno dovevi alzare la testa non è così non funziona così detto questo ovviamente poi è bello è bello è bello discutere però appunto è bello anche a volte alzare un attimino superare anche i luoghi faccio una battuta faccio una battuta Massimo leggevo un utente che diceva Boban prima Sky poi UEFA poi Sky poi magari ci fossero i Boban ai vertici dell'UEFA e non i burocrati o i tecnocrati che però c'è stato Boban allora intanto i messaggi non totalmente d'accordo i messaggi dovrei mettere in evidenza io quando vedete l'una rossa in finale messo qua potete immaginare che ci sia Montblano che non pensa a fare il grande ospite perché secondo voi io metterei mai una cosa di un altro sport ove vogliamo chiamarlo sport qua mentre stiamo parlando di il Diz non sarebbe possibile quindi sapete posso recitare la conferenza di Conte perché ha parlato oggi Tiago eh ma io vorrei andare su Juve Napoli tra poco sai Luca e la leggerò io allora mi prenoto per fare la lettura ho letto molto bello voglio fare ancora un po' di Champions ovviamente Paola è qui con noi e ci può dire o interrompere su quello che interrompere no può dire però io voglio prima io mi ero fissato questa di il Diz devo dire che mi interessa anche poi dopo magari un vostro parere di tutti su Boban non mi è piaciuto devo dire neanche con non mi è piaciuto neanche lo scambio Boban-Ibrahimovic prepartita così non lo so per carità a me quello sì sì ma fa bene essere anche duro Ibrahimovic non mi è piaciuto per niente Ibrahimovic è cinque da bullo di quartiere però se Boban gli dice a uno a un ospite qualunque beh se l'hai capito tu siamo contenti cioè c'è anche un modo secondo me rispettoso di dire guarda noi non l'abbiamo capito ma scusa Massimo ma hai seguito bene hai seguito bene secondo per secondo allora io me lo sono risentito proprio attentamente tra l'altro solo in audio quindi a un certo punto lui Boban cerca di fare quello che i calciatori tra di loro lì fanno spesso e gli ah grande Ibra grande e probabilmente Ibra che arriva lì con un po' il dentino avvelenato lo attacca e allora a quel punto lì Boban va diretto ora mi piace perché comunque a me io Boban nel suo modo nella sua schiettezza nel suo modo di essere comunque mi piace tantissimo e e poi questo qui che va e dice io sono boss e tutti lavorano per me penoso secondo me è una caduta di stile clamorosa per la società che stai andando a rappresentare ma te ne aggiungo una se posso a livello di Leao e Teo che se ne stanno da una parte cioè anche nei confronti secondo me dell'allenatore è stata un'uscita assolutamente infelice come per dire finché non c'ero io non davano retta quello che ma io ve ne dico un'altra ve ne dico un'altra ma Ibrahimo i Ciro eravamo allo stadio e quindi con Paolo dopo siamo andati a cena ma Ibrahimo va prima e non va dopo cioè dopo lasciano solo Fonseca dopo che fa della figuraccia con l'Iber beh sì però non solo sì però in un caso così prima vai a dire solo il boss Fonseca lascia San Siro intorno alle 23 e 45 23 e 50 e rimane il Summit Ibra Purlani Moncadà che restano poi ancora un'ora asserragliati in una sala di San Siro ed escono un'ora dopo il loro allenatore e quando escono è l'una meno 5 l'una meno 10 non rilasciano dichiarazione però scusa Luca un'altra cosa io anche qui mi sono andato perché ho voluto proprio ascoltarmi bene bene quello che era stato detto ad esempio perché spesso secondo me poi ci facciamo anche trarre in inganno da quelli che fanno i titoli a chiapaclic in giro io ho trovato questo video dove c'è la risposta di Fonseca che il titolo è che Fonseca è in difficoltà io ho ascoltato quello che ha detto Fonseca a Fonseca è stato contestato il fatto che facesse la difesa a uomo e lui risponde e dice no no la difesa è a scusa venne contestato che facesse la difesa a zona e lui risponde e dice no no se guardate bene la difesa è a zona e perdono le consegne non può anche dire e a questo punto manderei a zappare il mio difensore ha detto chiaramente che ha espresso un fatto tecnico e tattico quindi e poi dopo sul resto ha detto ok voi avete questa opinione io ho un'altra opinione parlando di Leao quindi poi è chiaro che lo cerca di dire in modo pacato nel post partita sarà stato anche stanco ma io non ho visto un Fonseca in difficoltà anzi ho visto un Fonseca che ha accettato di parlare di questioni tecniche poi che lo mettono in discussione il ruolo di Ibrahimovic dovrebbe essere finché almeno Fonseca è lì tutelare l'allenatore e il lavoro che fa con la squadra le uscite che fa secondo me indeboliscono con Fonseca comunque direi di fregarcene anche del Milan assolutamente ora non me l'ho aperto io stavolta me ne scuso mi piace perché è sempre dinamico sempre a presente che l'albisegna che gol che numero perfetto ancora meglio di Del Piero scende nel sacco ma è l'emis canale il dis gol all'esordine c'è più 1-0 Giuventus che belle cose ancora meglio di Del Piero perché è più potente di Del Piero lavoro Masterpiece siamo in vantaggio allora la messa Luca ragazzi è Luca che fa il matto allora intanto volevo dire questo per chiudere sul Milan non ho ancora capito non ho ancora capito cosa stiano combinando perché oggi hanno fatto uscire evidentemente la voce che Sarri o non so chi sia pronto tra due giorni tra tre giorni questi rischiano di prendere un'imbarcata nel settimo derby di fila io non so Giovanni se vuoi chiusare sul Milan perché veramente a me sembra sia un casino non so cosa dire io non so cosa stanno combinando io ti dico quello che ho scritto in un tweet in un tweet di ieri tra l'altro ho anche il piacere o dispiacere a volte di vedere le partite quando esco qui a Berlino vado al Milan Club quindi voglio dire sento anche un po' il polso diciamo così dei tifosi dei tifosi milanisti che sono qua cioè secondo me se ci fosse una logica se salta Fonseca subito dopo quelli che lo hanno scelto se ne vanno però mi rendo conto che nel calcio questa cosa qui non si fa non si usi fare perché siamo perché non si può dimenticare che siamo al 19 di settembre siamo al 19 di settembre se salta un allenatore prima di lui deve saltare chi lo ha scelto e chi non lo ha saputo difendere perché di nota una società debole prima ancora che un allenatore debole non si può pensare che cambiare un allenatore risolva le questioni è da piccola società voglio dire io tengo il Brescia ne facciamo fuori quattro all'anno siamo una piccola società ecco se volete essere così imitateci vedete che vi insegno anche come si fa cioè secondo me quello che è avvenuto col culin break è un punto di non ritorno cioè devi vincere 3 a 0 il derby per mettere alle spalle l'inizio della valanga che è partita da lì scusatemi ma io ho visto gli interieri ora al di là del racconto dei giornali tanto lo sappiamo ne abbiamo parlato 500 volte poi sembra una vittoria per 8 a 0 però vanno a Manchester col City e l'assalto è un po' finale con l'Inter che si copre rischiano con due volte su un Gundogan ma per il resto l'Inter se le lascia spazio ripartono in 5 in 6 organizzati cioè il Milan se fa così come li ho visto fare col Parma col Libro io non so come va a finire ne prende tanti sono preoccupato per i tifosi milanisti veramente vai Giovanni basta dire una cosa ieri nel primo tempo l'Inter ha fatto 10 tiri totali in 45 minuti nei primi tempi in Champions League contro il Manchester City nessuno ha mai fatto più di così vuol dire che ti stai difendendo e secondo me è ora anche qui di finire di pensare che siccome una squadra si difende si difende si difende bene e poi contraattacca quando ero a Manchester e ho seguito per tre anni come sapete le conferenze stampa di Guardiola e credo di aver tratto tantissimi insegnamenti una delle cose che Guardiola dice sempre è questa lui ammira le squadre italiane perché le squadre italiane più si difendono e più acquistano sicurezza mentre nella sua mentalità di calcio più non tieni il pallone e più dovresti vedere meno le tue sicurezze e quindi lui dice questa roba qui non mi appartiene ma calcisticamente non posso che ammirarli per fare questa roba qua ieri l'Inter ha fatto questa cosa qui alla perfezione non puoi dirgli nulla e rispetto a Istanbul una partita in cui il Manchester City si mise lì non attaccò troppo l'Inter riuscì a incartargliela e le cose migliori dell'Inter arrivarono dopo l'1-0 ieri anche sullo 0-0 l'Inter ha fatto le cose che doveva fare quindi secondo me è un applauso a quello che hanno fatto perché l'hanno fatto molto bene contro il Manchester è come un crescendo la prossima volta che giocano vince l'Inter andiamo 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 alla formula andiamo alla formula e a tutto il resto e poi andiamo alla Juve Juve Napoli Monblano ha in credito con noi della lettura dell'intervista della conferenza di Conte pre Juve Napoli Paola chiedo a te noi abbiamo visto Juve PSV ieri ne hai viste altre o in generale mi racconti le tue impressioni anche su questo voglio Giovanni poi ripeto è tutto Juve verso Juve Napoli qualcuno chiede De Rossi e le tue impressioni sulla Champions così sei di quelle che dicono io ancora non ho capito neanche cosa devo sperare ti è tutto abbastanza chiaro ti piace ti ha rotto già mi racconti un po' abbastanza chiaro no perché non so quanto dobbiamo fare per essere certi di una no perché non c'è un precedente quindi non so soltanto che ovviamente no così proprio degli studi ci sono degli studi sono degli studi per capire quanti punti ovviamente devi imparare la memoria la prima ok la prima ovviamente era fondamentale vincerla anche per una questione di la memoria la devi sapere vai vai parla Paolo non ti fai intimidire da Montblanc la prima ovviamente anche per una questione di di così perché era da tanto che non facevamo questa competizione quindi per forte dobbiamo vincerla per forte non la troviamo anche col siti allora il siti reggiandovi al discorso di prima vince le squadre che si difendono bene anche con noi non è che ha questa storia di grandi vittorie cioè se una squadra si difende bene e poi riattacca il siti riesce a gestirlo secondo me ovviamente in Inghilterra essendo tutti un po' più aperti se gli lasci spazio al siti quelli dilagano e fanno 800.000 gol per quanto riguarda non riesco a capire bene questa formula io però sono per il calcio del popolo quindi non mi dà fastidio che ci sono delle squadrette che prendono più gol sinceramente mi dispiace ma basta incontrare in questo perché dico no no ci piace il dibattito ma perché è il sogno di tutti questo è il sogno di tutti che sti cazzi è il sogno di tutti sai che mi frega a me ma pure io sogno di tutti perché tu sei nato che ti figli uve metti che nasce che c'è una squadra ma infatti pensa un po' pensa un po' Paola tu ti figli uve e sei talmente altruista che speri che il mio Brescia un giorno vada in Champions League cosa di cui a me non ne frega assolutamente nulla perché io vorrei giocare un torneo tra le squadre come le mie e vincerlo e avere il diritto di vincerlo più volte ogni anno senza dover per forza andare a Madrid dove devo andare a fare il pellegrino Giovanni mi è piaciuto questo mi è piaciuto anche il contraddittorio bene che Paola abbia detto che invece a lei piace che comunque possano partecipare le squadre poi ci sta c'è pure la sorpresa Giovanni dici la tua questo è molto atteso da parte mia la tua su questa formula io ti dico molto rapidamente la mia io dico che è una Superlega che non ha che non ha che non ha i meriti della Superlega cioè l'idea di merito mia non merito sportivo di cui parla legittimamente Paola e tanti l'idea mia è che le squadre come hai detto tu Giovanni debbano essere più o meno circa della stessa in qualche modo macro categoria poi sappiamo tutti che il Bruges potrà battere la Juventus e ci diranno ma allora ma come sappiamo che un giorno i Chicago Boots potranno perdere una partita su non so quante in Italia o cose del genere ma rimarrà sempre l'NBA chiusa così e va benissimo così Giovanni a me sembra una cosa dove c'è più casualità perché è vero che prima il girone anche era casuale poteva essere di ferro o meno ma almeno le partecipanti affrontavano tutte tutte le stesse mentre qua ripeto il Bayern intanto parte da un bel 9 a 2 noi la Dinamo Zagabria non l'avremo mai mi dici le tue impressioni Giovanni il Bayern fa 9 a 2 perché te lo dico io vinco vinco in Germania i tedeschi hanno un po' questo senso del massacro 7 a 1 7 a 1 al Maracanasinio al Maracanà di Rio de Janeiro 9 a 2 loro non si fermano invece gli italiani in genere si fermano no allora intanto secondo me una questione quella dei punti facciamola semplice se ne vinci 5 vai molto probabilmente nelle 8 se ne vinci 3 sei molto probabilmente nelle 24 quindi 9 punti sei nelle 24 e vai avanti 15 alla fine mi sbaglierò di poco forse sei 15 anche perché sono andato a vedere le classifiche dei vari campionati dopo 8 partite in realtà l'ottava sempre tra i 13 12-13 punti ma credo che qui ci sia una distribuzione una distribuzione diversa anche perché sono appunto poi 36 eccetera allora io rifiuto di accostare il concetto di Superlega a questa cosa qui perché secondo me la Superlega vuole essere una cosa diversa questa è una cosa lottizzata su base federale dove si partecipa su base federale spero che in futuro si possa vedere delle cose diverse e ci siano delle cose diverse io personalmente l'avrei passata a 24 anziché a 36 una cosa che non mi piace è che ci sono 4,4 miliardi di incassi 3,3 vengono distribuiti e 2,4 vanno alle squadre di Champions quindi quello che l'UEFA sta facendo è continuare continuare ad alimentare una disparità continua di anno in anno in anno tra le squadre anche quest'anno la gran parte dei soldi verrà distribuita tra le prime 4 le prime 8 e gli altri comunque prenderanno meno e in Europa League avrà pochissimo senso andare in conference eccetera quindi questa è una disparità che l'UEFA ogni anno sta alimentando con anche soprattutto l'assurdità del fatto che 70 puoi pagare fino al 70% del tuo fatturato che è la regola più assurda del mondo lo chiamano pure salary cap che non ha nulla a che vedere per quanto riguarda la formula e dico a me lascia sostanzialmente indifferente nel senso che voglio capire da qui all'ottava giornata cosa succederà voglio capire quante partite inutili ci saranno ricordiamoci che quest'anno si giocano 144 partite contro le 96 dell'anno scorso e che negli ultimi anni comunque le partite inutili perché non c'era perché c'erano una o due squadre che non avevano più nulla da chiedere erano ridotte quasi al minimo con l'effetto della terza che retrocedeva in Europa League quindi secondo me quella roba lì dal punto di vista del gioco dello spettacolo eccetera aveva una sua logica con 144 partite ho paura che alla lunga questa cosa qui peggiori una cosa che mi piace quella sì è che finalmente tra le squadre di prima e seconda fascia quindi tra le prime 18 quest'anno vedremo 18 partite perché ci sono 8 squadre tra squadre di prima fascia e 8 scusa 9 tra squadre di prima fascia e 9 tra squadre di seconda fascia questa qui non c'era ed è un livello sicuramente superiore a livello di partite interessanti interessanti da vedere dopodiché credo che alla fine ognuno sarà molto più focalizzato sulla sua squadra e un pochino meno sulle altre e quindi questo dovrebbe alla lunga portare a un'ulteriore differenziazione dei mercati televisivi perché se prima c'era un minimo di interesse a guardare anche qualcosa d'altro adesso è proprio non solo televisivi e verticali per audience quindi giuventini interisti milanisti Luca sei con Paolo o con Giovanni? Ma io devo dire la verità a me piacciono le novità in generale io sono per le novità ma come attitudine io ho già studiato il formato per rendere nella mia testa la serie A più entusiasmante che non sono i playoff dell'anticipo e non dirò mai la formula qui lo dirò solo il presidente di Lega quando mi chiamerà il prossimo presidente di Lega ricordiamolo Zazzaroni secondo alcune indiscrezioni ti chiamerà Zazzaroni? secondo te ti chiamerà Zazzaroni? no ma lo chiamo io nel caso lo chiamo io adesso a parte di scherzi leggevo anche questa indiscrezione mi piacciono le novità e quindi mi portano curiosità mi fanno sentire anche perché il nostro mestiere è come è ciclico cioè vivi le cose sempre con gli stessi tempi ci cambia un po' lo spirito con cui cioè nelle novità che noi abbiamo da Juventini quest'anno e sono tante la prima cosa dicevamo wow aria fresca a prescindere da essere pro, contro, anti cambi allenatore cambi tanti giocatori e anche la Formula Champions come tema separato mi incuriosisce poi io magari tra un anno tra due anni quello che ti dirò è stata una grande pogliata non mi sottraggo da questo eventuale giudizio però mi genera curiosità ci stimola anche nel nostro mestiere non di Juventini ma di giornalisti a provare a creare delle nuove analisi quindi devo dire che da questo punto di vista non sono pure non ho preconcetti devo entrare un po' nel mood per esempio stamattina io mi sono svegliato e mi sono ci ho messo un paio d'ore a ricordare a me stesso che oggi giovedì si giocava la Champions credo giocare l'Atalanta mi se ne frega io questa mattina nella mia testa mi facevo non avevo ancora aperto il giornale mi facevo la classifica mi facevo la classifica e dicevo però secondo me manca qualcosa no cioè non avevo mai il Barcellona ha giocato e sai quelle robe lì che sei in mezzo mezzo sveglio ma Brest Sturm Graz hanno giocato già Brest Sturm Graz o non ancora ma siete veramente le vostre ironie evitari proprio se vi piace il calcio Cosenza Avellino però ho guardato nonostante lo Juventino si possa occupare solo di guardare la Juve almeno fino alle ultime tre e l'Interista l'Inter il Milanista io Manchester City l'Inter l'ho guardata perché come Tiago in questa fase bisogna studiare il Napoli l'Inter e il City e quindi ho detto quale occasione migliore e ho guardato la partita lo ammetto e mi ha impressionato l'Inter ma l'Inter non mi sorprende a me non mi sorprende no 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 non ho detto mi ha sorpreso ho detto mi ha impressionato sì sì ma è così mi ha fatto una grande impressione perché ricordiamolo tra l'altro io ho visto ho visto due grandi blocchi diciamo così la prima mezz'ora e 35 del secondo tempo come blocchi proprio dove ero dedicato poi si muovevano delle cose intorno a me quindi guardavo ma non studiavo in quella fase e comunque l'Inter è senza Lautaro con i due due nuove acquisti che sono ancora lì fino a ieri forti giocatori che conosciamo però vanno titolari gioca Bissec non è turnover ma è un Inter che non è quella che nella nostra testa ci sembra preschedulata che fa una partita che mi ha impressionato posso chiederti una cosa ma sei convinto io mi sono convinto di questa cosa mentre guardavo il mio Manchester City ieri contro l'Inter secondo me quest'anno l'Inter sarà molto più agevolata a giocare sarà molto più agevolata a giocare un certo tipo di partite con grandi squadre dovendo per attitudine difendersi anziché quando è portata a fare il gioco Genoa Monza ci insegnano qualcosa perché quando devi farlo anche dal punto di vista del ritmo del dinamismo della continuità eccetera poi le cose diventano più difficili no ma sicuramente allora il tema partita di ieri tu sai che se l'Inter può risalire il campo in un certo modo sa farlo molto bene il City gliel'ha concesso secondo me e l'Inter l'ha fatto molto bene poi non ha avuto quelle super occasioni mamma mia però andavano compatti andavano bene andavano anche giocatori che in parte nell'Inter deve ancora conoscere questa cosa però sì c'è l'Inter gioca bene in contropiede guarda io ti dico una cosa l'Inter di Conte me la ricordo molto chiara aveva bisogno voleva il campo davanti per potersi esprimere voleva invitava l'Inter di Zaghi perché è un'evoluzione di quell'Inter lì è una squadra che ha acquisito delle sicurezze questo momento sa fare tante cose ma soprattutto è una squadra compatta in campo ieri mi ha impressionato non me l'aspettavo sinceramente questo non significa che il campionato l'abbia già vinto non significa che vincerà sicuramente le prossime tre in Champions però però quando leggo in Zaghi dire giganteschi qualcuno stamattina anche dei miei colleghi faceva ironia perché dice mamma mia ma sembra che abbiamo vinto 5 a 0 parlavo in redazione e dicevo sì però io entro nella testa di Zaghi capisco cosa intende lui cioè lui ieri cercava di fare dei punti e contestualmente perché le cose queste cose qua si fanno in inizio stagione quando hai una squadra forte cercare determinate risposte in più dalle certezze che la squadra ha già e ieri sinceramente quello che in Zaghi poteva cercare l'ha avuto e quindi capisco tutto il buono con cui ne esce da qui a ipotizzare un Inter che metterà sotto tutti calma perché basta poco però io ieri non mi aspettavo un Inter con D mi ha impressionato mentre il City mi ha deluso molto cioè secondo me c'è anche una questione di gestione risorse l'Inter quest'anno almeno da quello che si è visto finora in Zaghi sembra che prediliga impegni come quello di ieri rispetto ad alcune parti più stimolata esatto però se andiamo a vedere la bilancia è vero che secondo me ieri ha avuto un'iniezione di autostima enorme l'Inter ma nelle ultime due gare in cui in Zaghi ha fatto delle scelte anche dei sacrifici perché Barelli e Cialanoglu a Monza non c'erano e si è visto alla fine ha raccolto due punti su sei ha fatto una grandissima partita a Manchester prosegua anche se benissimo no no ma infatti a noi dal punto di vista come dire l'ottica no no infatti il tuo la gestione delle risorse sarà fondamentale per tutti anche per la luna ma la tua è un'analisi di contesto che tra l'altro in parte sposo la mia era un'analisi della partita molto veramente molto chiusa lì non includeva altro l'analisi della partita è che l'Inter mi ha destato una grande impressione per me alla fine di questo girone delle otto partite l'Inter farà più punti con le prime quattro le quattro squadre di prima e seconda fascia che con quelle di terza sotto chi ha Giovanni mi sembrava che avesse squadre molto facili però young boys vediamo vediamo sono curioso sono curioso non perché hanno vinto ma di vedere se vanno a Praga a imporre il gioco o a difendersi se vanno a Praga a imporre il gioco prendono gli schiaffoni sicuro poi sapete che a me piace spararle però climpala come ti dicono nella chat io non mi ricordo chi abbia ma so che mentre vedevo il sorteggio io ovviamente gufavo qualunque italiana l'Inter mi sembrava che avesse le forti ma poi alcune vinte già prima però magari mi sbagliavo torniamo alla formula della Champions questa nuova Champions può piacere o non piacere una stella rossa young boys alla fine c'è una classifica l'Inter ha fatto una grande partita ma ha preso un punto e vabbè a Manchester ok ma le altre non andranno tutte a Manchester però fronteranno una tra tre squadre andranno altre tre squadre cioè chiaramente poi alla fine questo volevo aggiungere sul 9 a 2 del Bayern sicuramente chi ha capito come funziona questa nuova formula è il Bayern diciamocelo però quando hai un avversario quando hai un avversario che ti ricordi lo devi azzannare ascolta me lascia stare la Champions la Champions no no ascolta di come andrà la Champions la temperatura la temperatura delle squadre in Champions inclusi noi la misureremo al quarto quinto inizieremo a pensare a cosa c'è stato prima e cosa ci può essere in questo momento la dico magari tutta così svelo anche il mio lato giuventino non solo i complimenti quindi all'Inter per quello che ho fatto ieri e dopo quello che è successo a Monza sinceramente questo City Inter con un City che fa male all'Inter avrebbe fatto molto bene alla Juve cioè banalmente detto dal mio punto di vista Monza-Inter e quella partita lì non tutte le ciambele ti riescono col buco Inzaghi inizia pensate l'ha criticato persino la Gazzetta infatti sapete cosa ha detto Inzaghi dopo la gara l'avete sentito? no che gli hanno detto ma i giornali cosa risponde le critiche sui giornali e lui ha risposto Zampini segnatelo c'è la clip la trovate sui social io quel giornale lì quel giornale lì non lo leggo Simone Inzaghi no che dici? troppo la tinterista no dico perché se non lo legge Simone Inzaghi pensa agli altri pensa noi esatto detto questo no testuale comunque detto questo il tema è che io diciamo auspicavo pensavo anche razionalmente ma auspicavo che potesse essere ci ha lì una bel secondo gancio il primo gancio è il del Monza pari tra l'altro senza recriminazioni ancora grazie che l'hanno pareggiato l'altro gancio ti arriva a distanza di pochi giorni per carità col City ma che ti riporta non con i piedi per terra di più e allora si apre una breccia che l'Inter potrebbe gestire male e invece non è successo perché l'Inter esce con un'iniezione di fiducia poi uscirà anche solo con un punto ma sulla sulle proiezioni Champions ripeto alla quinto turno avremo le temperature anche la nostra così torniamo a Juve per Sve quello che volete però il tema è che secondo me poteva essere una un bel fattore un City che fa la una gran la partita che doveva fare che non è riuscito a fare ecco sì sì le prossime due le due tedesche Luca chi? Lipsi e Stoccarda ah la Juve dici scusa no no pensavo nelle prossime due le due tedesche domani ci racconti al volo Lipsi e Juve Lipsi e Juve Stoccarda cosa ti aspetti? ci sono due partite molto difficili soprattutto con lo Stoccarda è una partita difficilissima perché lo Stoccarda l'ho guardata con la coda dell'occhio con il Real Madrid tenere così a lungo con il Real Madrid secondo me lo Stoccarda è una squadra che metterà in difficoltà in difficoltà tutte no dico questo se fai sei punti vai in carrozza beh siamo a nove sì 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 certo eh però a quel punto arriviamo terzi eh no Luca però il problema no ma tu devi considerare questo tu devi considerare questo che la Juventus purtroppo quest'anno non ha quarta fascia la Juventus non ha quarta fascia ha preso la Stonvilla e lo Stoccarda e quindi quando tu giochi con l'Ipsia stai già giocando con una tua quarta fascia e quindi la devi vincere perché se non vinci con l'Ipsia devi vincere con lo Stoccarda d'accordo ma è vero lo Young Boys di turno il Brest o questa roba non ce le hai e quindi tu devi non puoi fare non puoi fare conti peraltro secondo me i pareggi varranno quanto sconfitte in questa in questa logica perché poi tu quando arrivi alle ultime due col Bruges e col Benfica soprattutto il Bruges che teoricamente era qua se arrivi là con la pressione del dover vincere allora poi si fa difficile quindi è per quello che io dico il vero termomento della Juve è sulle prossime due il Lipsia non è meglio degli altri degli altri anni comunque lo Stoccarda invece è molto è molto pericoloso e poi succedere al contrario però lo Stoccarda è da noi sì lo Stoccarda è da noi anche il PSV magari là in questo momento giocare là in grande fiducia come erano poteva essere diverso è un'altra il Benfica Luca sarà gennaio però il Benfica arriva per ultima Massimo no 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 dico però è completamente diverso tra Lisbona e qua uno delle più ragazzi devo salutarvi perché ho la riunione come sempre Domani solo una parola in vista di Juve-Napoli ce la dici noi ora andiamo su di lui su Conte sulla Juve sul Napoli che dici vince chi fa meno possesso palla nei primi 15 minuti chi fa aspetta troppo troppo chi lascia chi lascia il pallone agli altri all'inizio vince la partita voi al quindicesimo guardate guardate il possesso palla chi ha lasciato chi ha lasciato partire gli altri vince la partita è troppo devo fare delle formule matematiche bisogna approcciare bisogna approcciare la partita con la calma senza senza farsi prendere dalla foga di andare eccetera arma arma e via questo lo fa sempre la Juve di Motta la Juve di Motta sta partendo con calma Giovanni ricordiamo sta partendo anche perché scusa sta partendo anche perché ha determinati avversari e quindi sa di poter venire fuori alla distanza poi magari con un avversario col Napoli invece non vuoi concedergli per dargli fiducia però se hanno la forza di lasciargli lasciargli partire poi possono venire fuori alla distanza con un avversario